Per il nome settembre parliamo con Marco Cappato qui a San Giovanni Bosco, pensi che arriverà prima la Corte Costituzionale o il Parlamento? La Corte Costituzionale dovrebbe arrivare tra pochi giorni quindi se nessuno riesce a sabotare o rinviare la Corte Costituzionale ovviamente arriverà prima. Marco una storia tutta radicata questa che passa per la magistratura in qualche modo che ha fatto sollevare un certo dibattito addirittura un primo magistrato un procuratore che era innocentista. Sì è una storia che parte dalle persone ovviamente non dalle ideologie dalle persone in carne ed ossa da Pier Giorgio Welby per quanto mi riguarda è stata la persona che mi ha portato in questa battaglia e poi siamo arrivati con Dominic Velati, con Beppino Inglaro, con tantissime altre persone fino a DJ Fabo e Davide Trentini alla disobbedenza civile, ai processi, ai tribunali perché ci sono anche i diritti fondamentali non soltanto le maggioranze politiche e partitiche. La gente è già pronta su temi come questo, i capi dei partiti arrivano dopo come è tradizione ma penso che arriveranno anche loro. Grazie Marco Cappello Grazie a tutti! Grazie a tutti!